Ricordi Manifesti è il nome della mostra realizzata dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. La mostra che coniuga la disciplina storica con quella artistica presenta i manifesti che gli alunni hanno realizzato in occasione dei 100 anni dai fatti di Renzino, una pagina nota e molto triste della storia di Foiano della Chiana. Nei loro elaborati artistici possiamo trovare un elogio della libertà, della libertà di espressione, della libertà di pensiero contro la censura, contro il sopruso che affossa l'umanità. Vi invitiamo tutti a venire a vedere la mostra allestita sotto le logge davanti alla sala Gervasi.